Pronostico rispettato ma con un solo gol di scarto che fa tutta la differenza del mondo tra le due squadre. Lo realizza Raikovic nel segmento conclusivo di prima frazione e consente al Casarano di vincere in trasferta il derby del Salento contro i Gallipoli. Giocato in anticipo ad Ugento, è valido per la tredicesima giornata del girone H di Serie D. Finale 1-0, diventano così 26 punti, media esatta di due a partita per gli uomini di Giuseppe La Terza che hanno perso solo all'esordio in questo campionato al Capozza contro Rotonda, poi hanno collezionato ben 12 risultati utili consecutivi. Rosso-Azzurri alla quarta vittoria di fila. Restano 9 i punti invece per i giallorossi alla prima in panchina del neotecnico Giovanni Cavallaro. Il meteo non è certamente alleato dei 22 protagonisti. Benvenga in apertura, sbaglia la mira dalla distanza, Trinchera con la soluzione rasoterra. Impegna così sul primo palo Pucci, quando ha la possibilità di colpire invece il Casarano non se la lascia sfuggire. Citro giganteggia sulla corsia destra, pennella il traversone per Rajkovic che sul secondo palo di testa non perdona. Passa se o tocca, ma non riesce ad evitare il peggio 1-0 per gli ospiti. Il Galipoli prova a replicare, ma il parziale resta in ghiaccio sino all'intervallo ripresa. I Rosso-Azzurri controllano nella prima parte della seconda frazione e gestiscono il vantaggio. Prova a fare qualcosa in più la squadra di cassa, ma senza effetti positivi nel finale. A conti fatti, portieri da una parte e dall'altra, ma è realmente impensieriti nel corso della ripresa. Vince dunque 1-0 il Casarano che con il poker di vittoria consecutiva si canida come seria pretendente al successo finale in questo campionato. Ci sarà da lottare per confermare la categoria invece per la matricola Galipoli. Domenica prossima gli uomini di La Terza ospiteranno Alcapozza e Barletta. L'undici di Cavallaro invece giocherà in trasferta lo scontro diretto con il Gravina. Gravina Gravina